Il coronavirus mette in ginocchio anche l'economia, dopo il sistema sanitario e quello del commercio a subire una battuta d'arresto che potrebbe rivelarsi fatale. Chiudono le aziende, introiti assenti, fornitori e cartelle da pagare. Sintesi brutale per una situazione prossima al collasso, per mali antichi e carichi virali recenti. Lo Stato prova a metterci una pezza con il decreto Cura Italia, 25 miliardi iniettati come vaccino al crash finanziario. Misure per famiglie, aziende, partite IVA, non sempre comprensibili e comunque, secondo gli addetti, lavori insufficienti. La Sardegna, se possibile, paga un prezzo più alto, già boccheggiante senza il Covid-19. Serve una terapia d'urto che per prima cosa deve partire dalla sospensione delle imposte e dalla moratoria dei debiti. Lo sostiene Mariolina Andria, capogruppo del misto di minoranza nel Consiglio Comunale di Sassari, che stigmatizza la reazione a ralenti del governo nel fronteggiare la crisi. Andria punta anche il dito sull'assenza di un preciso modello d'aiuto a cui si possa accedere senza farne richiesta o laddove non fosse possibile attraverso una semplificazione burocratica. Sono proprio i mille passaggi del fiscalismo italiano a preoccupare. Gli interventi vanno fatti subito, usufruendo di iniezioni di liquidità tramite banche e la società finanziaria Regione Sardegna. Arrivando pure all'estremo, sostiene Andria, del conto capitale, ovvero con i contributi a fondo perduto. Azioni che rendano possibile la sopravvivenza di famiglie e aziende che non possono rimanere alla finestra fino alla fine dell'emergenza.